Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Mari ed oggi mi vedete in serale, non sono proprio con la luce del giorno, non sono truccata perché sono stata stamattina con mio marito da acqua e sapone e non ho avuto il tempo sinceramente di sistemarmi, di azzizzarmi tutta pare vi faccio vedere esattamente come mi trovo in questo momento in casa, nella mia bella cucinina e vi faccio vedere quello che abbiamo acquistato anche perché se io non lo tolgo da questa busta stasera mio marito mi lincia perché come tutte le youtubers che si rispettino quando si fa un haul si lasciano le cose nella busta fino a quando non si gira il video e quindi adesso noi mandiamo la sigla, vi faccio vedere subito tutto quello che ho acquistato, sigla! Eccomi qua ragazzi, allora iniziamo una cosa semplicissima, bicchieri di plastica, prendo anche lo scontrino così vi faccio vedere esattamente quanto ho pagato bicchieri di plastica erano in offerta oggi al modica cifra di bicchieri di plastica 69 centesimi, 200 bicchieri poi abbiamo preso, guardate un po', io non lo sapevo ma Acqua e Sapone ha riproposto, ha fatto praticamente la Simil Rotoloni Regina carta igienica 4 maxi rotoli al prezzo di 1,85 euro non sono bravissima a fare questi video io vero? Comunque 1,85, che brutta questa luce di oggi, proprio veramente brutta, comunque ragazzi va bene andiamo avanti, Rio Tutto Cucina che avete visto in altri, nel video recensione che avevo fatto qualche settimana fa alla modica cifra di 1,25 euro, non è costato tanto, bellissimo e poi sempre parlando di Rio ho acquistato anche questo prodotto che voglio provare sul parquet della mia stanza da letto, perché nella mia stanza da letto ho proprio il parquet con cera naturale antistatico, protegge, nutre, lucida, rinnova, elimina impronte e segni senza risciacquo voglio provarlo perché il parquet della mia stanza da letto è in rovere e non è più lucido come una volta quindi mia mamma mi dice sempre, devi comprare la cera del demulzio io l'ho presa, adesso ve lo faccio vedere, però questo qua mi ha dessato molta curiosità anche perché mi sono sempre trovata bene con il Rio, casa mia, Rio in generale quindi l'ho voluto vedere, l'ho voluto prendere e poi ho letto che c'è anche la cera e quindi dovete sapere che io ho salutato un'amica, ciao Sava perché lei mi segue mi sono dimenticata di aprire il portone, il cancello per farlo andare via comunque niente va bene, ho visto che qua in questo Rio casa mia c'è, in questo Rio legno e parquet c'è già la cera, quindi li proverò entrambi, anzi mi è venuta anche in mente una bellissima idea vi faccio vedere come lavo il pavimento del mio parquet, vi faccio vedere il prima e il dopo e vediamo insieme come funzionano e quindi prendiamo anche la cera, vediamo dov'è vi faccio vedere la cera dell'emulzio che ho preso per il mio parquet cera specchio, più profumata, lucida e protegge, ricca di cera di carnauba carnauba, naturale, vabbè, comunque è un buon odore devo dire, non buonissimo, non è buonissimo però è buono c'è sedia che mi bussa, passa e vediamo un po', uso puro per lucidare e proteggere per stare da cera sul pavimento pulito stenderla subito in modo uniforme con un panno morbido e umido, evitando di ripassare sulle zone già trattate e lucidare con la lucidatrice, che è, o con un panno asciutto vediamo un po', la lucidatrice, c'è la mia mamma la lucidatrice potrei anche farmela prestare, spararmi la chiappera proprio per vedere se finalmente il mio parquet può riprendere vita comunque, questo maglione è bruttissimo, è grigissimo ma sapete che cosa ho fatto? ho lavato questo maglione di mio marito, era un pochettino più grande si è ristretto e quindi me lo sto mettendo io non è un peccato, scusatemi, almeno lo utilizzo io andiamo avanti invece e ho comprato questo sapone della Thermomed questo qua, in particolare è alla pesca frangipane e pesca veramente ero indecisa se prendere questo prendere quello all'olio d'Ergan che ho visto molte volte anche su Instagram questo è, ecco infatti, questo è buono è molto delicato, non contiene parabeni quindi comunque è un sapone molto buono l'ho già visto quest'estate quando sono andata in vacanza mi avevo anche messo su Instagram una fotografia di questo sapone ma io l'avevo scoperto al profumo Iris me ne sono innamorata tantissimo perché praticamente è la stessa identica profumazione del Iris dell'Erbolario quindi ho detto, vabbè, questo qua al pesca e frangipane sarà anche buono come profumazione non avevo sentito, avevo aperto tutti veramente guardate un po' come sono scema io avevo aperto tutti i saponi di nascosto per odolarli alla fine mi è venuto tipo una specie di senso di colpo ho detto, no, ma che mi beccano questo qua non lo apro ma mi prendo questo e ho preso questo senza sapere se era buono o meno comunque è buono, il profumo è buono ma non è come l'Iris che adesso vi faccio vedere ho preso questa qua, ho preso il bagnoschiuma idratante senza parabeni, dermatologicamente testato al pH 5.5 profumazione Iris ed è, vi posso assicurare, identico all'Iris dell'Erbolario quindi se non lo conoscete provatelo acqua e sapone o comunque in tanti supermercati si trova facilmente a Dermomed buonissimo, non vedo l'ora di immergermi nella mia bellissima vasca idramassaggio della quale poi vi parlerò anche più avanti non so se ancora esiste questa fabbrica però ve ne parlerò poi, ah ah ah, l'avevo terminata l'ho ripesa acqua e sapone, la trovate se volete prenderla vi dico anche quanto è costata poco più di 2 euro 2,50 euro, 2,70 euro una cosa del genere 500 grammi di prodotto no, un chilo di prodotto un chilo di prodotto per meno di 3 euro ragazzi io ci faccio mesi con questo davvero, ne prendo tanto perché per i miei capelli che sono ricci e fini io ho bisogno veramente di un prodotto molto districante e io di questa qua ne uso tanta 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 aspettate, guardate un po' vi faccio vedere anche la sua viscosità allora vediamo un po' se combino qualche guaio e mi casca tutta a terra perché io sono una pasticcione eccola qua guardate un po' non so se si nota se si vede la sua viscosità comunque è molto densa molto, molto densa un profumo fantastico di cocco lo mettiamo qua insieme a tutte le altre mie cosine e poi andiamo avanti andiamo avanti abbiamo preso anche White Now Mentadent che era in offerta 1,69 euro stamattina da acqua e sapone c'era anche la penna spiancante però ragazzi come ho già detto nel video volantino vorrei sentire qualche recensione prima di acquistare 8,90 euro di penna spiancante alla quale io non credo tantissimo tra poco sedia si mette ad abbaiare comunque fatemi sapere se l'avete eccola che cosa vi ho detto sta abbaiando le ciotole perché vuole mangiare è in calore vuole mangiare tutto il giorno fatemi sapere se conoscete questo prodotto soprattutto se conoscete la penna spiancante se l'avete provata e se funziona perché sono veramente curiosa di provarla sedia stiamo finendo non ti non ti non ti per volare stiamo finendo questo qua per i bambini abbiamo preso acqua fresca vi ho fatto vedere al contrario no giusto acqua fresca acqua fresca junior per bambini 6 anni sedia fra poco mi mettono non mi piace se non la smetti di abbaiare e fatelo pure perché è colpa sua lei parla con le ciotole prima di bere o prima di mangiare parla con le ciotole ditemi se è normale che i cani parlano con le ciotole prima di mangiare o prima di bere proprio si sta prendendo la questione terminiamo questo video interminabile interrotto da tutti quanti scusatemi tantissimo ma così è siamo a casa è normalissimo finiamo quindi con i sacchi per la spazzatura quindi i sacchi 55x60 cm quelle che vanno solitamente nei contenitori di acciaio sotto il lavello della cucina e poi questa qua l'abbiamo comprata al posto del gel per i capelli di Adriano e per i capelli di Cicino la Biopoint Styling Shine è una wax una cera per capelli con diamantite vitamin complex filtri UV cera lucidante fissaggio forte il numero fissaggio forte intensità 3 non so che intensità sarebbe la 1 la 2 e la 4 ma questa è la 3 6 euro e qualcosa è costata un botto di soldi però fa un profumo di di cocco fantastico eccezionale l'ho già messa nei capelli di Adriano mi sono tempastracchiata di cera per capelli ma fa un profumo incredibile poi Biopoint comunque ragazzi diciamo c'era tutta è comunque un'ottima marca niente ragazzi allora questo è tutto niente veramente no tanto altro che niente questo è veramente tutto io vi ringrazio grazie per essere stati qui in quest'altro piccolo angolino di casa mia mi raccomando lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto anche se sono stata interrotta 200.000 volte da tutti e c'è anche Alice che ha sputtato la gomma ok ragazzi questo video sarebbe veramente da cestinare però questi prodotti di acqua e savone ve li dovevo far vedere un bacio a tutti ci vediamo alla prossima e mettetevi non mi piace se non vi è piaciuto questo video ciao a tutti ci vediamo ciao 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 ciao